buongiorno a tutti e ben ritrovati qua su radio rossa nera il 9 no è il sono le 9 è il 20 marzo del 2011 così a casa completamente a casa vabbè sono particolarmente pulminato e la pausa a questo effetto erico boiani ciao 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 buongiorno a tutti buongiorno a tutti finirà anche questa oggi di inchieste di quant'altro non ne parliamo qui vi rimando dal pomeriggio quando avremo un avvocato penalista che verrà a trovarci in collegamento così che svisceremo un pochino la cosa anche perché insomma è giusto mettere qualche puntino sulle i con chi magari ne sa di più rispetto a al classico classica chiacchiera e poi aspetteremo di capire cosa accadrà lato lato acerbi ma ci riguarda tra le rette di rimbalzo anche se ho visto che oggi caro r ti faccio nero parafrasando si vile marrano aspettiamo sorvoliamo e non va bene apriamo questa attenzione della nostra trasmissione con la gazzetta dello sport che ci ricorda che l'anno prossimo tocca fare una punta perché giro va sempre più negli stati uniti e tratta con los angeles fc che è un po la sua la prima prima la sua prima di scelta per un cambio reale di vita quasi direi a questo punto visto che comunque la famiglia giro è composta da ben sei persone lui la moglie e quattro figli vorrebbe dire traslocare per davvero cambiare vita e questo sembra essere la fine tra le rette della sua carriera nel senso fare 12 anni negli stati uniti a los angeles e se fosse così insomma sarebbe da far dirgli grazie perché ha tirato la carretta in maniera incredibile per per almeno una stagione e mezza quasi da solo e niente grazie è veramente la parola la parola giusta se così dovesse essere beh direi di sì simo cioè è un ragionamento anche che ci può stare cioè una persona come girù fine carriera perché la carta identità che gli sta dicendo amico mio sei a fine carriera e ci sta che la scelta possa essere quella degli stati uniti innanzitutto piuttosto che ad esempio dell'arabia saudita per per un personaggio come olivia girù cioè immagino che gli stati uniti possano essere una meta più più adatta proprio per come per quello che dicevi tu cioè comunque una persona che ha già una famiglia ben numerosa con figli di diverse età perché sono chi più grandi chi più piccolo e quindi andare a fare uno due anni a los angeles in california non mi non mi sembra una scelta di vita così diciamo orribile ecco anzi mi sembra una scelta corretta da parte sua cioè per quello che è lui tra l'altro non so se esiste radio los angeles fc in caso se olivia vuole portarsi anche sottoscritto in california un paio d'anni io vado volentieri non me ne voglio direttore ma capirà bene anche lei che los angeles è los angeles detto ciò detto ciò è no scherzi a parte questo apre ancor di più scenari su su quello che è il prossimo attacco del milan cioè il futuro dell'attacco del milan abbiamo parlato a tal proposito anche stamattina a caffè in radio cioè bisogna capire cosa accadrà cioè già il fatto che non ci dovrebbe usiamo sempre il condizionale perché poi va a capire cosa cosa accade però non ci dovrebbe essere più olivia giru sono resti per ora solo con ocafor perché anche io vi c'è il contratto di scadenza e quindi un attacco proprio da rifondare questa volta non ci sarebbero più scusa ecco non ci sarebbe più l'attaccante chiudiamo il discorso olivier ricordando che in 121 partite con la maglia del milan ha realizzato 46 gol e 20 assist quindi ha portato 66 gol tra gol e assist al milan in 120 presenze un gol un assist a partita un gol un assist uno ogni due ogni due partite in tutto ciò ha giocato in quante stagioni tre a questo punto una due tre la scorsa è questa in ancora nemmeno tre stagioni la bellezza di 8.300 minuti con la maglia del milan ha giocato veramente con infinità va bene nel caso lo ringrazieremo andando a ritroso cioè da da prima che arrivasse al milan andando indietro in quanti anni giru ha fatto gli stessi minuti perché col montpellier giocava tanto col primo arsenal giocava tanto ma poi da lì in poi non ha mai giocato così tanto capito bisognerebbe capire il milan e la sua seconda squadra come li aveva condensati invece prima cioè per me erano molto più diluiti ecco magari al tolco per il tolco ne parliamo tra l'altro o li chiama derby derby chiama weekend weekend non risponde perché dovrebbe giocarsi lunedì i rossoni rimpegnati il giorno prima in europa tra l'altro è il ritorno di roma milan di europa league quella partita anticipa roma lazio allora parliamo di noi noi giochiamo giovedì a roma il ritorno dei quarti di finale europa league avremmo dovuto giocare quindi domenica il derby oggi dovrebbe arrivare l'ufficialità ma è in maniera molto ufficiosa è ormai deciso che si possa giocare di lunedì che tanto sarebbe la prima volta se non riguardo male che si gioca di lunedì un derby di campionato è abbastanza chiamata la situazione visto che tu giochi giovedì un quarto di finale che almeno ti prendi venerdì e sabato per riposare e domenica per far la rifinitura della partita altrimenti siamo veramente stati attaccati al derby ma mi sembra mi sembra giusto insomma al di là del fatto che è un lunedì è un po strano però sì cosa fai lunedì sera è sol derby cioè cose cose così no posso dirti che è più un problema per l'inter eventualmente questa cosa cioè che se dovessero c'è chi se ne frega eh però dovessero mai vincere il campionato in quella giornata lì perché le chance ci sono io ve lo ricordo le chance esistono purtroppo purtroppo festeggiare lunedì sera sarebbe un po da inter se vogliamo però sarebbe un po per dirlo io mi stavo tacendo ma in effetti è la cosa che ho pensato anch'io ma va bene ne parleremo ne parleremo a tempo debito vabbè niente che dire praticamente in quattro giorni ci giochiamo il futuro in quel momento c'è il ritorno di sì la stagione ci giochiamo il quarto più più il derby c'è l'ultima partita del campionato pesante che c'è rimasta va bene detto ciò abbiamo parlato di girù parliamo di chi arriva direi che oserei dire che è fatta e mi dissocio da quello che stai dicendo joshua bayern non c'è feeling il milan lo vuole ha più chance i tedeschi hanno un'opzione da 40 ma ne loro nel giocatore sono convinti i rossoneri ci credono la grande minaccia oggi è la premier ma va mi verrebbe da dire in alto a destra c'è questo specchiettino cioè le presenze in serie a sono 27 con 10 gol tre presenze in coppia italia e un gol e poi insomma ci ricordano le cifre per il buyer di monaco il gol tra l'altro non è all'inter no come erri il gol non è all'inter o no sì il gol all'inter in coppia italia quello a suo angolo la posizione è difficile sì bel gol ma allora ma che il buyer ma che l'operazione zirzee bayern monaco sia forzata tra virgolette cioè non lo scopriamo oggi cioè se il bayern spende 40 milioni per joshua zirzee probabilmente al 90 per cento non è perché lo vuole schierare titolare il nuovo numero 9 per il nuovo corso del nuovo allenatore il bayern di monaco ha in casa acquistato la scorsa estate per oltre 90 100 milioni adesso non mi ricordo tale henry kane ok non so se lo conoscete che praticamente sta demolendo i gol i record di gol di lewandowski un altro che non so se conoscete che era il motivo per cui joshua zirzee che entrava intrucchiava ogni tanto ai tempi al bayern ha una certa ha detto sapete cosa forse è meglio che vado a giocare da un'altra parte perché qui non gioco logicamente se questa cosa accadeva con lewandowski perché non dovrebbe accadere con henry kane cioè se il bayern spende quei soldi lì è palesemente perché poi o lo inserisce in altre operazioni o lo usa come opinione di scambio o lo rivende di più cioè proprio a livello logico cioè non ha senso c'è un conto che dici lewandowski a fine ciclo vuole andare via ha finito il suo col buyer mi serve la punta allora appunto su zirzee ma hanno preso kane la scorsa estate cioè non ha proprio senso ecco quanto costa chi zirzee per me non più di 50 60 dai dai 50 e 60 ci sto ok lui quanto costa che è il terzo grado no lui è un po meno probabilmente lui probabilmente un po meno ti direi più per il minutaggio che per il numero di gol che che sono lì forse lui con 30 40 c'era cali lui è lui alcune cose non si possono comprare per tutto il resto c'è mastercard come diceva un noto spot io lui con lui con messo è sfondato una porta aperta e non so se i numeri a ecco cioè non so se ci stiamo rendendo conto della stagione che sta facendo quest'uomo e lui per me anche lui lui forse si mette in mezzo tra zirzee e sesco forse una cinquantina anche lui forse qualcosina in più cioè non puoi una stagione da chiuderà più di 40 gol non può passare inosservato ragazzi dobbiamo metterci nell'ottica idea che quest'estate se vuoi una punta già che ha dei numeri in pancia e che ha dimostrato già qualcosa sotto i 40 non vai tendenzialmente oppure deve essere veramente una roba clamorosamente fuori dal mercato nel senso che va via zero nel senso che va via perché ha litigato eccetera se no altrimenti è una punta del genere o perché lo peschi tu eh cioè come il perché lo peschi tutta la prima volta cioè pescavi i ghioccheri l'anno scorso pescata camorosa o boniface per dire no cioè vedi che fa tre quattro partite buone in europa lì con sanghi loise ti può convincere e dici sai cosa però io ci stavo con girù con questo discorso c'è un discorso di ghioccheri al posto dello jovic di quest'anno ci stava fanno un anno insieme vedo se potenzialmente può farmi il titolare ma l'anno prossimo gli dai la nove probabilmente in tutti i sensi cioè no ma infatti ma infatti per quanto mi riguarda non si scappa da quei tre quattro nomi lì non si scappa dallo spendere soldi cioè eh non si scappa cioè non non ci sono alternative poi possiamo possiamo decidere che il Milan va a pescare l'attaccante x y z che che esploderà e che sarà il nuovo il nuovo ghioccheri su il nuovo boniface su tutti questi nuovi nomi qui no cioè prenderli nello step prima però vi ricordo che sei sempre il Milan ed è sempre attaccante titolare del Milan fossi io potrei fare anche guarda il gioco delle tre carte senza sapere quale tiro su con quei tre lì che io per personalmente sarei felice cioè non non ho una preferenza che mi fa dire però sai forse era meglio quello là è però ma abbiamo sbagliato bisognava prendere quell'altro perché sono tutti tre giocatori che ti danno delle certezze uno che fa 40 gol come fa non è solo una certezza cioè 40 cioè 40 più 15 assist uno che in serie a porta a spasso tre quarti delle difese del campionato come fa non essere una certezza e che si muove con un'eleganza e con un'efficacia che forse sono anni che non vediamo cioè uno che è due metri e ha vent'anni e fa gol e assist in mondesliga come fa non è solo una certezza c'è uno che fa gol a real madrid in champions league cioè io non scapperei da quei tre nomi lì e ripeto sarei felice con quei tre nomi lì poi sì posso posso preferire magari un po' più ghiocca per delle caratteristiche un po' più tirze perché il Milan con la seconda punta davanti gioca meglio cioè possono essere gusti però devi andare sul nome del genere detto ciò due cose una il Milan Zierkzee l'ha visto rivisto stravisto convinto convinte straconvinto anche dal vivo più di una volta uno i soldi ma soprattutto due chi allena perché giocare con un attacco con Zierkzee vuol dire farlo funzionare in un modo giocare in un attacco con Ghioceres vuol dire che l'attacco funziona in un altro e va capito anche chi sarà il prossimo allenatore quasi prima della punta ti direi quello sì per forza ti saluto ti ringrazio ti do appuntamento alle 11 con Chiamina e tutto il resto del palinsesso dalle 13 alle 16 e quant'altro con le 19 Carlo Pellegatti ciao ciao non ho ancora detto di mettere like se siete arrivati fino a questo punto scrivete voi anni mai like quel punto di domanda così so che siete arrivati però voi mettetelo e andatevi a recuperare anche l'episodio di caffè in radio uscito questa mattina ciao ciao